La BMW iX3 si aggiorna nonostante la sua recente comparsa sui mercati nazionali. Con l'arrivo del restyling trasversale su tutta la gamma iX3, anche la versione 100% elettrica accoglie i nuovi aggiornamenti di design, che riguardano principalmente i gruppi ottici, sia anteriori che posteriori e la calandra frontale. Il look è ora più dinamico e si avvicina a quello della sportivissima X3M, con prese d'aria più marcate e un diffusore posteriore evidente. Non mancano inoltre gli accenti blu, che la distinguono dalle versioni endotermiche. Sotto al cofano non cambia invece la parte tecnica, il motore elettrico la spinge da 0 a 100 km orari in 6 secondi e 8, fino ad una velocità massima limitata a 180 orari. Grazie alla nuova batteria è possibile ricaricare l'80% dell'energia in poco più di mezz'ora, con una colonnina a 150 kW. Nell'abitacolo fa la sua comparsa il doppio pannello da oltre 12 pollici, uno dedicato all'infotainment e l'altro posto dietro al volante per mostrare tutte le informazioni relative alla marcia del veicolo. Arriverà sul mercato con due allestimenti e la dotazione di serie è davvero ricca.